Ancora un angolo di degrado alle porte di Arezzo, una vera e propria discarica a cielo aperto lungo il sentiero della Bonifica che costeggia il canale Maestro della Chiana. Ci troviamo a ponte alla nave, a pochi metri di distanza dalla ponte della Direttissima. In molti hanno deciso di abbandonare qui i propri rifiuti per lo più ingombranti. Dai sanitari agli elettrodomestici, dagli scarti edile e copertoni, da addirittura c'è chi ha deciso di disfarsi del proprio divano ed abbandonarlo. Un vero e proprio scempio dunque quello lungo il sentiero della Bonifica, percorso quotidianamente da molti sportivi e non solo, per una corso, una camminata o una pedalata immersi nel verde. Alcuni rifiuti addirittura si trovano anche all'interno del canale Maestro della Chiana.